Se senti dolore, fastidio, rigidità e sensazione di blocco a livello delle anche e quello che stai cercando è una soluzione per questo problema oppure se sei una persona che passa maggior parte del tempo della giornata comunque seduta o nella stessa posizione probabilmente soffri appunto di ipomobilità dell'anca che in parole povere vuol dire una diminuzione di quello che è il movimento normale delle articolazioni delle anche. In questo video quindi andiamo a vedere quali possono essere le cause che portano alla riduzione del movimento e andiamo a vedere una serie di esercizi che si possono fare e si devono fare tutti i giorni per poter migliorare questo problema. Io mi chiamo Klaus, sono un fisioterapista e fondatore di Fisiosocial. Ti invito ad iscriverti al nostro canale YouTube per poter ricevere sempre i nostri nuovi video che trattano argomenti come dolori fisici, acciacchi, postura e tutto quello che ha a che fare con il miglioramento personale in generale non solo fisico ma anche mentale. Partiamo subito con questo video. Quello che noto spesso in tutti i miei pazienti sia di persona sia quelli che seguiamo tramite il nostro pacchetto di consulenza online e che spesso si sottovaluta l'articolazione dell'anca. Cioè facciamo sempre esercizi per il collo, per la cervicale, per le spalle, per la schiena però difficilmente facciamo esercizi specifici per le articolazioni delle anche. Però se ci pensi noi stiamo quasi sempre seduti quindi con l'anca piegata a 90 gradi e quest'anca qua non va a fare tutti i movimenti di rotazione i movimenti di estensione eccetera sono movimenti che vengono fatti raramente da persone magari che appunto nella loro routine hanno una serie di questi esercizi. Però questa sottovalutazione dell'anca fa sì che aumentino quelli che sono poi i problemi o i dolori a livello della schiena perché la colonna lombare e l'anca lavorano in sincronia cioè quando io mi piego in avanti in questo modo l'anca e la schiena devono lavorare insieme una certa quantità del movimento viene fatta dalla lombare e una certa quantità viene fatta dall'anca. La maggior parte di fatti del movimento che facciamo quando ci pieghiamo in avanti per andare a toccare con le mani per terra deve essere fatta dall'anca e il ritorno deve essere fatto poi da tutti e due ovviamente ma con un grande contributo dei glutei come muscoli e dell'anca. Questa cosa solitamente non succede perché i glutei sono un po' ipoattivi cioè non lavorano abbastanza e non si attivano nel momento giusto e quindi fa sì che la schiena sia quella che faccia la maggior parte del lavoro e la maggior parte della fatica. Quindi in questo video andiamo a vedere degli esercizi che vanno a migliorare la mobilità dell'anca e vanno ad attivare i diversi muscoli dell'articolazione dell'anca. In un modo ideale chi fa gli esercizi per la schiena dovrebbe fare anche gli esercizi per le anche. Di questo modo va a lavorare sul ritmo lombosacrale che si chiama quindi sul ritmo che c'è tra la parte lombare e la parte dell'anca per poter migliorare la funzionalità della nostra schiena e la funzionalità delle nostre articolazioni in generale. Partiamo subito con gli esercizi. Vedremo diversi esercizi di mobilità quindi per andare a lavorare nelle diverse direzioni del movimento dell'anca e vedremo degli esercizi di rinforzo per andare a rinforzare ed attivare i muscoli dell'anca. Partiamo subito. Il primo esercizio che andiamo a fare è un esercizio di stretching del muscolo iliopsoas un muscolo anteriore che parte dalla lombare e si attacca al femore. Quello che ci interessa è quindi andare a fare un po' di allungamento però in questo caso siccome voglio fare più mobilità che stretching voglio fare quindi quello che si chiama stretching dinamico cioè un movimento che vado avanti e indietro cercando di allungare il muscolo. In questo caso sto lavorando sulla mia gamba sinistra ti consiglio di mettere un appoggio morbido sotto il ginocchio gamba destra avanti la sinistra la metto leggermente più indietro in questo modo sto andando a portare la mia anca in estensione cioè indietro e sto anche allungando la parte anteriore se hai un problema di equilibrio puoi appoggiare la mano appoggiarti al muro insomma trovare un modo tenere un bastone ci sono diversi modi da questa posizione traslo in avanti cioè non mi piego tengo la schiena ferma e vado in avanti in questo modo sentirò tirare nella parte anteriore tengo la posizione un attimo e ritorno vado e ritorno vado e ritorno ok? in questo modo vado a fare sia una mobilizzazione dell'anca in estensione sia uno stretching dinamico dell'iliopsoas questo esercizio qua lo ripeto ovviamente per tutte e due le gambe e faccio due o tre serie da 8 o 10 ripetizioni la tenuta finale può essere di 3, 4, 5 secondi comunque non di più non ci interessa tanto quello quanto la mobilità il prossimo esercizio che andiamo a fare è un esercizio di mobilizzazione nelle varie rotazioni cioè rotazione esterna e rotazione interna dell'anca ok? che visto meglio dovrebbe essere rotazione interna e rotazione esterna per raggiungere la posizione che è la parte più difficile di questo esercizio bisogna portare la gamba destra in questo caso indietro con il ginocchio in giù e la gamba sinistra con il ginocchio in questo modo ok? il piede ce l'ho praticamente appoggiato al muro parto da questa posizione mi raddrizzo e cerco di portarmi un pochino avanti e vado indietro questo è un esercizio molto avanzato e che richiede grande mobilità in ogni caso anche solo raggiungere la posizione poter stare in questa posizione qui e fare delle belle respirazioni diaframmatiche dovrebbe già essere un buon esercizio le serie e le ripetizioni di questo esercizio sono per ogni gamba faccio una serie da 5 ripetizioni quindi 5 ripetizioni di flessione anteriore dove mantengo una ventina di secondi la posizione anteriore posso usare le mani se proprio ho difficoltà così scarico un po' di peso vado avanti e ritorno vado avanti e ritorno e la stessa cosa ripeto poi per la gamba opposta cioè piede sinistro contro il muro piede destro qui vado e ritorno e qua si vede che la mia anca a destra ha più mobilità della mia anca a sinistra ad esempio perché riesco ad andare in avanti con più facilità senza sentir tanto tirare quindi vado avanti tengo 20 secondi questa posizione qua e poi ritorno ok vado avanti tengo 20 secondi la posizione e ritorno indietro lo rifaccio per 5 volte da una parte e 5 volte dall'altra parte questo è l'esercizio se questo esercizio per il tuo caso diventa un pochino complicato sia perché non riesci magari a raggiungere la posizione sia perché puoi avere del dolore o del fastidio all'anca puoi anche non farlo che adesso vediamo una variante leggermente più facile ok la variante più facile mi metto sdraiato a pancia in su metto a cavallo la gamba in questo caso voglio lavorare sulla mia gamba destra posso andare a spingere con la mano per aiutarmi oppure tranquillamente con la gamba da sola vado e ritorno tanto vado e ritorno vado e ritorno e poi lo faccio per la gamba sinistra vado giù e ritorno vado giù e ritorno spingo bene e ritorno se voglio aumentare la difficoltà posso in questo caso sto sempre lavorando sulla mia gamba destra prendo la gamba e la tiro e così faccio anche lo stretching del piriforme se tengo la posizione per 30 secondi però come dicevo prima mi interessa tanto la mobilità e un po' meno lo stretching quindi prendo vado su e ritorno vado su e ritorno che sia solo questo di apertura oppure apertura più tiro sulla gamba di questo esercizio vado a fare due serie da 8 ripetizioni per gamba quindi o della prima variante o della seconda dove tiro sulla gamba con le due mani ok adesso invece andiamo a fare un esercizio di rinforzo della muscolatura delle anche ci servirà un elastico ma puoi benissimo farlo con le mani oppure con l'aiuto di un amico o amica allora mi metto sdraiato a pancia in su faccio girare l'elastico intorno alle gambe e vado in apertura con tutte e due e ritorno non mi faccio portare in dentro di botto dall'elastico ma apro francesco continua a dirmi di fare il nodo ma io non faccio il nodo me lo tengo tu fai il bravo invece fai il nodo e così riesci a fare l'esercizio meglio allora vado in fuori e ritorno non mi faccio tornare di colpo dall'elastico ma vado e controllo poi il ritorno vado e ritorno vado e ritorno questo esercizio qui lo faccio per tre serie da 10 o 12 ripetizioni come dicevo prima lo stesso esercizio si può fare con l'aiuto di un amico o un'amica perché da solo è un po' difficile spingere in fuori così il prossimo esercizio che andiamo a fare puoi usare una palla, una pallina, un cuscino, un rullo, qualsiasi cosa da stringere in mezzo alle ginocchia mi metto sdraiato a pancia in giù metto la pallina qua in mezzo tengo i piedi uniti se la pallina è piccola altrimenti posso tenere normalmente quindi se prima siamo andati in apertura adesso andiamo in chiusura questo è un esercizio però di tenuta quindi spingo in dentro tengo 10 secondi e lascio spingo in dentro tengo 10 secondi la contrazione e lascio spingo tengo 10 secondi e lascio ok? questo esercizio qua lo fai per due serie da 5 ripetizioni mantenendo 10 secondi di contrazione quindi faccio 1 tengo 10 secondi 2 tengo 10 secondi 5 volte poi lo rifaccio per altre 5 volte ok? quindi due serie da 5 da 10 secondi di tenuta prossimo esercizio che andiamo a fare è l'esercizio del ponte per andare a fare un rinforzo generale pancia in su di nuovo non mi aiuto con le mani quindi tiro sulle braccia e vado a sollevarmi e ritorno mi sollevo tengo un attimo e ritorno non vado di fretta mi sollevo tengo un attimo e ritorno se il ponte con tutte e due le gambe è troppo facile per il tuo caso puoi stendere una gamba e fare il ponte in questo modo vai e ritorni con la gamba che rimane tesa che arriva più o meno a livello del ginocchio dell'altro ginocchio e ritorno vado e ritorno ok? in base alla variante di ponte che vai a scegliere fai 3 serie da 8 o 12 ripetizioni in base alla tua forma in base alla tua capacità di carico diciamo ok? l'ultimo esercizio che andiamo a fare è un esercizio di rinforzo e di mobilità in estensione dell'anca ci mettiamo in quadrupedia partiamo da questa posizione andiamo a piegare la gamba così e a spingere in alto in questo modo dovrai sentire tirare nella parte anteriore e sentirai una grande contrazione a livello del gluteo quindi piego la gamba e vado su e ritorno e quale alterno? faccio sinistra e poi destra non devo girare così con la schiena cioè tutto il resto schiena eccetera è tutto fermo piego vado su ritorno piego vado su e ritorno questo esercizio lo fai per 3 serie da 8 o 10 ripetizioni benissimo siamo arrivati alla fine di questo video spero che questo video ti sia stato d'aiuto fammi sapere nei commenti se hai provato a fare questi esercizi se sei riuscito e quali sono nel caso le difficoltà che hai avuto nello svolgere questi esercizi ti ricordo di nuovo che se soffri di dolore alle anche dolore alla schiena eccetera il nostro pacchetto di consulenza che va a lavorare a 360 gradi sulle problematiche sui disturbi muscolo-scheletrici e non solo potrebbe essere una buona soluzione per il tuo caso tutte le informazioni le trovi nel link qua sotto ti ringrazio per l'attenzione spero che questi esercizi ti possano veramente dare una mano ci vediamo nel prossimo video